Via libera alle riunioni condominali virtuali, il Veneto fa da apri piste. Grazie al centro studi di Anaci, l'Associazione Nazionale Amministratori Condominali e Immobiliari, è stato siglato un documento che consente le assemblee anche in via telematica. Le riunioni secondo regolamento dovrebbero tenersi esclusivamente in un spazio fisico, ma l'emergenza Covid ha stravolto le consuetudini e le misure emergenziali vietano gli assembramenti, da cui la decisione di poter far qualcosa per consentire la partecipazione da remoto di tutti i condomini potendo così risolvere problematiche condominali urgenti e scadenze. La normativa vigente non consentirebbe il luogo virtuale, quindi non si può parlare esclusivamente di assemblea online, ma con questo elaborato siamo arrivati a determinare una strada che consenta all'amministratore di svolgere il proprio mandato nell'interesse degli amministrati senza potenziali danni, dal punto di vista strettamente giuridico. Un esempio, l'approvazione dei rendiconti è fondamentale per poter esercitare correttamente il proprio mandato. Oggi non si possono fare e possiamo solo invitare i condomini a pagare le spese condominali. Poi possono esserci dei lavori di carattere straordinario che sono sospesi, fra poco i cantieri partono e tutte queste problematiche. Ecco che, grazie al lavoro dei legali del centro studio in Unaci Veneto, si è arrivati a determinare per gli amministratori del Veneto che è una strada percorribile. I condomini potranno quindi intervenire e votare grazie a strumenti telecomunicazione.